Questa bella montagna di fronte a noi è Monte Venere che domina il paese appenninico di Monzuno tra la Valle del Savina e la Valle del Setta. Questo monte ricco di vegetazione ha delle bellissime prospettive paesaggistiche e delle piccole antiche burgate rurali che è un piacere visitare durante le passeggiate che si possono fare da una parte all'altra dei suoi versanti. La passeggiata di oggi è diretta ad un piccolo borgo che io amo particolarmente, si chiama Gabbiano e vi si accede da una stradina che si inerpica lungo l'appendizio partendo dalla provinciale verso Monzuno salendo da Rioveggio. Questo piccolo borgo ha delle case molto antiche, talune ricordano le case torri medievali con le pareti in cotto a vista, tutto intorno alle case alberi importanti ricchi di verde, sempre verdi come abeti, come ginepri, cespugli. Ma la cosa più interessante di questa piccola borgata è la chiesa che si vede da lontano bianca proiettata verso il cielo con forme che ricordano il neogotico francese fu realizzata nei primi decenni del novecento e si può dire che sintetizzi un po' nelle sue forme quello che è il nome stesso del paese. Sembra infatti un Gabbiano stilizzato con la testolina proiettata verso il cielo e le ali strette intorno al corpo su delle belle praterie verdi che in questo periodo dell'anno, in questo autunno inoltrato, sono caratterizzate da una vegetazione pittoresca che si accende di colori che vanno dal rossiccio al giallo all'arancione al bruno. Ci sono ancora rose fiorite fra i cespugli, fiori e diciamo bacche rossicce, semi pelosi, biancastri, sembra quasi veramente di vedersi un quadro. Questo è uno dei paesi che io preferisco. Io ho una serie di paesi in provincia di Bologna che definisco un po' i miei paesi. Sono i paesi dove mi piace ogni tanto ritornare per farci delle passeggiate, per vedere i vestiti vari che mette loro la stagione che si rinnova.